Sbloccati 120 milioni di fondi per i comuni della Campania, disco verde per le risorse economiche derivanti dai mutui contratti dei singoli comuni con la Cassa Depositi e Prestiti prima del 31 dicembre 2017, il cui ammortamento scaduto per il 31 dicembre 2019. L'annuncio del Governatore Vincenzo De Luca ne beneficeranno 500 enti locali, il tutto grazie all'emendamento della Regge Regionale 28 collegato alla legge di stabilità per il 2018 approvata in Consiglio regionale. Molti i comuni che ne beneficeranno in provincia di Salerno. A Postiglione circa 2 milioni e mezzo di euro per 9 mutui, Battipaglia 1 milione e 600 di euro su 8 mutui, Salerno 1 milione e 300 su 10 mutui, Rocca d'Aspide 168 mila euro per 17 mutui, Sapri 592 mila euro per 4 mutui, Capaccio Pessum 202 mila euro con 16 mutui, Agropoli 112 mila euro 8 mutui, Vallo della Lucania 80 mila euro per 6 mutui, Adeboli 68 mila euro con 6 mutui, Albanella 63 mila euro con 8 mutui, Trentinara 15 mila euro con un mutuo.